Alex Migliorini, Alessandro D'Amico? In alcuni momenti piango, spero in un ritorno di fiamma, in un'intervista rilasciata, vero? Alex Migliorini parla per la prima volta della rottura con Alessandro D'Amico L'extronista di Uomini e Donne, spiega che gli attacchi che il giovane sta subendo sui social lo feriscono Ammette che ci sono momenti in cui piange ancora per lui e spera in un ritorno di fiamma Tre settimane fa, Alex Migliorini, extronista di Uomini e Donne, ha annunciato la fine della sua relazione con Alessandro D'Amico in un lungo post pubblicato su Instagram Ciao ragazzi, scrivo questo post per comunicarvi che io e Alessandro ci siamo lasciati Dopo il periodo di pausa che ci siamo presi abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione Migliorini rompe il silenzio sulla fine della relazione con D'Amico, in un'intervista rilasciata al settimanale, vero? I motivi della rottura nello sfogo pubblicato su Instagram Alex Migliorini accennava anche ai motivi della rottura Purtroppo Alessandro mi ha confessato tempo fa Che non mi ama, quel sentimento forte che pensava di provare e che inizialmente definiva come amore in realtà non lo sente più Nonostante tutto abbiamo voluto riprovarci Lo so, è da sciocchi, ma volevo aggrapparmi a quel filo di speranza Non riuscivo a credere che in poco tempo fosse cambiato tutto C'è un'intervista rilasciata al settimanale